Un nuovo appuntamento dedicato alle scuole superiori cittadine è oggi all'editorium del Parco per il premio Borsellino per sensibilizzare i giovani a temi della legalità e della giustizia. Per la giornata nazionale della memoria dell'impegno e memoria delle vittime delle mafie sono stati proiettati due film documentari, i ragazzi delle scorte e le stragi di Capace e Via D'Amelio, incentrato sul racconto della vedova di Vito Schifani, il secondo, i ragazzi delle scorte, la quarto Savona 15, basato sul racconto della vedova di Antonio Montinaro. Il racconto della vita dei due agenti uccisi nell'attentato del 23 maggio del 92, in cui persero la vita anche il giudice Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, sua moglie, anche lei magistrato, ad accogliere i ragazzi leonodari del premio Borsellino. Oggi all'Aquila una lezione di storia moderna, di storia contemporanea, otto storie vere, otto ragazzi che sono morti in servizio mentre difendevano due magistrati che lottavano e lottano e continuano a lottare oggi contro le mafie. Otto ragazzi che sono morti perché credevano nei valori della giustizia, quelli che vogliamo indicare oggi alle scuole di tutto l'Abruzzo. Voglio ricordare tramite voi che sì, siamo all'Aquila, ma siamo al Teatro Sant'Andrea di Pescara, e siamo all'Auditorium Alessandrini di Teramo e siamo all'Università di Chieti. Una giornata molto importante, si ricordano le 1032 persone morte nel contrasto alla mafia, anche con una manifestazione nazionale, ma soprattutto su tutte le scuole d'Italia, in tutto il territorio italiano. In questo momento si stanno ricordando le figure anche e soprattutto per indicare ai ragazzi quali sono i valori veri, i valori della storia vera, non i social, non le cose inventate.